Valencia è una società che lavora con un gruppo molto giovane e quindi l'inesperienza è a vantaggio delle squadre più esperte, delle squadre più mature con elementi di malizia, di anni e anni di gioco come ha la stella azzurra. Noi pecchiamo da quel punto di vista, lo sappiamo, solamente che farci il callo è difficile perché le partite sono sempre combattute fino in fondo, poi alla fine però usciamo sempre con zero punti.